Siamo con Paolo Leonini, il direttore di museooggi.it, in questa occasione la presentazione appunto di un corso per giornalisti qui in Campidoglio, la sala della protomoteca. Paolo, la nicchia diciamo del portale è quella proprio di presentare tutti quelli che sono i professionisti che lavorano dietro, quelli che sono i polimusuali e non solo. Sì, esattamente. È un portale specialistico e di nicchia che si rivolge proprio ai professionisti del settore museale per dare visibilità a tutta la professionalità che c'è nel settore museale e che sostiene questo settore molto importante anche veramente per tutta l'economia italiana. Il portale nasce proprio con quest'idea, quindi di dare visibilità ai professionisti e ha anche un forte interesse in tutto il settore dell'accessibilità. Quindi questo per noi è un grossissimo valore che vogliamo portare avanti in tutti i nostri contenuti. A chi vi rivolgete in particolare? A chi cerca magari eventi nei musei italiani o magari agli stessi professionisti che vogliono trovare il modo di pubblicizzare le loro iniziative? Senz'altro pubblichiamo ovviamente notizie anche di mostre ed eventi, ma il nostro proprio punto di forza è dare visibilità ai professionisti e anche a tutto quello che sta dietro l'organizzazione delle mostre e degli eventi. Quindi noi pubblicheremo magari la notizia di una mostra, ma faremo anche interviste e forniremo contenuti per spiegare al pubblico come si realizza la mostra, quali sono le specificità, quali sono le buone pratiche museali di settore che possono anche essere esportate e fidatevi, ce ne sono moltissime. Perfetto, ringraziamo Paolo Lorini, direttore di museooggi.it Grazie a voi e vi aspettiamo sul nostro sito e anche sui nostri social. A presto, grazie a Eurocomunicazione.